Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovissimo video. Innanzitutto ragazzuoli, volevo augurarvi buon anno, buon 2023. Appunto, settimana scorsa è uscito il mio video Buoni Proposite e anche Recap del 2022. Se ve lo siete perso, ovviamente trovate tutto nell'info in alto. Vi ringrazio un'altra volta appunto per il supporto che mi avete dato nel 2022. Come avevo detto, il 2023 sarà il nostro anno. Non voglio perdere altro tempo ragazzi, come avete detto dal titolo, Video Acquisti Manga. Grazie a Infinite per appunto il video precedente di Video Acquisti Manga, è andato benissimo. Quindi vi invito a supportarmi, iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono, lasciate like. E in descrizione trovate anche tutti gli altri link per i miei social. Ragazzi, voglio anche ricordarvi che in descrizione trovate il link di Pop Store, che è appunto la fumetteria dove io acquisto i fumetti. Quindi, se volete acquistarli e ordinarli, link in descrizione. Allora ragazzuoli, come al solito iniziamo con un manga che appunto ho fatto anche uno shorts. Perché adesso ragazzi ho trovato un nuovo format da fare per gli shorts, quindi andate a guardare anche quelli. Sto iniziando a recensire i volumi che termino di leggere, quindi faccio una breve analisi del volume che ho appena terminato. Infatti trovate lo shorts qua in alto, tra quelli consigliati che vi metto sempre nelle info. E appunto sto parlando del numero 22 di Tokyo Revengers. Ho appunto fatto uno shorts dove appunto vi parlo del numero 22. Molto breve, perché appunto 60 secondi. Molto bello ragazzi, ma ovviamente ve ne ho parlato uno shorts. Quindi se siete curiosi andatevelo a vedere. Dopo ragazzi abbiamo il numero 6 di Alice in Borderlands. Sempre con queste copertine molto gnie gnie o fluo. Alice in Borderlands non usciva da un po' devo dire. Mi ricordo se l'ho messo nello scorso videoacquisti. Però molto bello. Sono 6 volumi di 9, quindi mancano 3 volumi e anche questa è finita. Tra l'altro piccolo fan fact ragazzi. Ho notato perché ogni inizio mese io guardo un po' i volumi che devo comprare il mese appunto che viene. E ho notato che sono aumentati di 90 centesimi a volume. Quindi alcuni, quindi preparatevi che a gennaio se trovate qualche volume a un prezzo tipo un euro superiore a quello che pagavate un mese fa è normale. Ve lo dico solo, ho visto alcuni numeri della Planet Manga e della Star Comics aumentare. Però comunque ecco volevo dirvelo. Torniamo ai nostri videoacquisti. Appunto abbiamo il numero 5 di Drifting Net Caffè. Appunto sono 7 volumi, non l'ho ancora iniziato a leggere. Però appena termineranno sicuramente li inizierò a leggere. Magari vi farò un perché leggerlo quando avrò finito di leggerlo. Perché non conviene fare un cosa ne penso visto che dura così poco. A parte questo ragazzi un altro manga di cui sono molto in hype è appunto I Am A Hero. Appunto qua abbiamo il numero 9 uscito questo mese. Vorrei fare anche un altro piccolo disclaimer in questo video appunto. Ci sarebbero stati dei volumi coordinato. Hanno fatto due numeri speciali di Natale. Il primo appunto di One Punch Man e il primo di Bleach. Gli ho ordinati. Speravo che mi arrivassero entro fine mese ma purtroppo con le spedizioni non sono riuscite ad arrivare in tempo. Quindi le vedrete poi nel videoacquisti di gennaio. Però molto bello. Avrei voluto parlarvene e farci anche un video a parte. Però appunto purtroppo con le festività bisogna un po' adattarsi. Ma comunque passiamo adesso al nuovo numero di Bluelock. Il numero 17. Bluelock ragazzi è una grandissima serie. C'è anche l'anime. Ovviamente vi consiglio di andare a vedere l'anime. Se avete qualche perplessità inerente a questo fumetto. Vale molto. In Giappone sono già 20 e qualcosa numeri. 22 se non sbaglio. E spero che termini presto. Perché comunque è un manga semicalcistico. Dove ci sono appunto degli obiettivi all'interno del fumetto. Delle sfide appunto per essere il numero 1 del calcio. È molto bello però molto bello. Io sono ancora indietro. Sono ancora il numero 10. Ma adesso piano piano cercherò di mettermi in pari. Intanto sono in pari col manga fisico. Poi nella lettura vediamo. Poi ragazzi andiamo al terz'ultimo numero di Golden Kamui. Ragazzi come avete sentito bene. Questo è il terz'ultimo numero. Quindi mancano ancora due numeri al termine di Golden Kamui. Beh un manga ragazzi veramente particolare. Anche questo è arrivato al termine. Infatti sto analizzando un po' i manga che ci abbandoneranno nel 2023. Che tra quelli che seguo sono abbastanza. Parlando di Mosley, Rodotter Stone. Ma anche lo stesso Golden Kamui. Kenga Nasura. Comunque sto facendo un breve recap di tutti i fumetti che comunque ci lasceranno nel 2023. Facendo comunque spazio a nuovissimi fumetti. Andiamo con gli ultimi due ragazzi. Dopo 30 anni è uscito La Via del Grembiule. Il numero 9. Ragazzi come La Via del Grembiule è uno dei manga più divertenti. Più senza senso che si possono leggere. Appunto è una lettura molto tranquilla. Da quello che ho constatato sono delle piccole storielle. C'è un filologico diciamo della sua storia. Che è la sua fidanzata e tutto quanto. Però comunque non è un manga con un filologico ben preciso. Sono tante piccole storielle. Molto bello. È una lettura molto tranquilla. Quindi se volete passare un attimo il tempo. Io vi consiglio di leggerlo. E poi ragazzi come ultimo numero del mese. Abbiamo il numero 30. Ragazzi sono già il numero 30. Cioè un anno fa erano tipo il numero 10. Stavo guardando ieri. Siamo al numero 30 di Detective Conan ragazzi. Come vedete hanno fatto un volume abbastanza bello grosso devo dire. Assurdo. Stanno andando a una velocità assurda. Detective Conan. Grandissimo manga. Ma non sono io che devo dirlo. Ho fatto anche un video recensione. Vabbè tutto qua in alto. Molto bello. La reedizione è assurda. Vi consiglio di prenderlo. Poi ovviamente ad oggi sono già il numero 101 eccetera. Se dovete recuperarla la reedizione ve la consiglio. Costa levemente di più. Però vi danno un'edizione di qualità. Quindi vi consiglio appunto di prenderla. Niente ragazzi. Questo è stato il video acquisti manga. Come avevo promesso sarebbe stato il primo video dell'anno. Quindi è giusto che fosse questo il primo. Io ragazzi vi ringrazio infinitamente del supporto che mi state dando. Letteralmente. Veramente grazie. Spero che mi supportiate ancora. Non è stato un mega video acquisti come l'ultimo che vi ho fatto. Però spero di rimediare a gennaio. Comunque ragazzi vi ringrazio. Vi mando un bacione. Presto nuovissimi progetti. Ma questo ci vorrà ancora del tempo. Ma non preoccupatevi. Sto lavorando da nuovissimi progetti. Appena le festività passeranno. Mi metterò in movimento. Perché adesso sto cercando di aspettare un attimo. Vi mando un bacione ragazzi. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Se volete supportarmi. In descrizione tutti i link. Instagram. E anche il mio podcast ragazzi. Il tuo narrativo a breve. Ricordatevi che non tutte le ciambelle escono col buco. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.